secondo le statistiche di youtube solo l'un per cento di chi guarda i miei video è iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora grazie va via via amicizia finita in live top content esatto comunque ripeto ognuno ha il suo e ci sono niente quindi per quanto riguarda vorremmo farvi vedere un attimino come stava venendo perché non se avessimo dovuto aspettare di finirlo off live per poi mostrarlo sarebbe passata una vita una puntina di nero un tanto ma perché ma io mi sto impegnando tanto stracchino è uno dei miei preferiti di doujinshi per quanto riguarda Erwin e Levi ma ha un problema con le due porze perché fa Levi microscopico a modo di bambino e ti fa solo il cazzo di Erwin è grande quanto lui e lo so le mani questo puoi farlo vedere le mani cioè si riesce a ma come fa ma è impossibile guardate le mani guardate il cazzo il cazzo il cazzo il cazzo il banni il banni non era un cazzo non era un cazzo non ce la facevo a finire il nipomenio non ce la facevo a iniziare il nipomenio a due ore e mezza raga non ce la facevo quindi alle 5 quando è finito l'altro non c'era Mario che diceva adesso cominciamo non c'era un cazzo e mi sento anche per quello avevo detto che cominciamo a non fare bene guardate anche una fitta di culo no non ho visto quella quella non ce l'ho fatta mi ha salvato l'ha presa male in quel caso Pierli strumenti di voglia e poi? la testa no? no basta questi due? questa è? il vestiale no che cazzo? no forse devo mettere in ordine qua no mi piace sì? davvero? posso mandare una foto agli amichisti per farvi vedere come è? ah sicuro la faccio adesso beh salve mi piace sì? davvero? posso mandare una foto agli amichisti per farvi vedere come è? ah sicuro la faccio adesso beh salve preparate Alessio oh Alessio non guardarla no Alessio non guardate sta foto fidati no no guardala bene è implosa la camera senti sono triste non mi l'ho messo a posto da un bel po' ci sono niente quindi per quanto riguarda dicevo vogliamo farvi vedere un attimino come stava venendo perché non sinceramente se avessimo dovuto aspettare di finirlo off live per poi mostrarlo sarebbe passata una vita e quindi si sarebbe rovinata tutta la la sorpresa infatti ieri addirittura volevo far streamare Pancake qui però non c'era modo di non far vedere il il retro quindi niente è andata così e e basta that's it domanda esci con un fico e a fine serata stasera fai uguale ti ammazzo te lo dico ok allora a club del libro finalmente guardiamo che ne so qual era il film da guardare a caso vabbè dovremmo vedere qualcosa quello della poltrona assassina no quello della poltrona assassina è di Pancake che non è mio quindi va bene Pancake che è mia madre aspetta 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 tre minuti con voce modificata non la faremo rimborsate da Miragusa allora questo se non sbaglio non si vede vero oh no oh oh no 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 non si vede non si vede bisognava farsi bannare oggi per forza no 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 non si vede non si vede allora questo ok niente o viene qua non si è data la voce due ore fa eh due ore fa non c'ero due ore fa no no non c'ero non c'ero non c'ero non vuoi più toccar niente non vuoi più toccar niente non tocco niente neanche al pc non voglio cioè per dirti io oggi ne ho neanche avviato la live in realtà non stiamo in live ok stiamo facendo così da tre ore così ok ok che è questa immagino che hai fatto dopo no è questa è questa è questa è questa per cinque o sei minuti dovranno essere corti ma ancora consistenti va bene vai quindi questo li tocci senza niente poi li togli e allora ci ok è vero sì stavo girando ma che ti prego a girare ok no 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 usa il mestolo thank you thank you thank you thank you e grazie mille a Desmond per la sua brigata al mister Pillo mister Pillo pagati la cazzo di sub pezzo di merda bastardo pagati quella cazzo di sub pagati quella cazzo di sub mister Pillo pagatela non farti da regalare che è stata una puttana pagati quella cazzo di sub mister Pillo pagati quella cazzo di sub mister Pillo no 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 quindi quindi per me è stato abbastanza anche easy poterne parlare poi togliendo il filtro internet ho potuto anche non censurarmi ma quindi è stato incredibile grazie ciao a Rox per il quarto mese thank you so much e e invece mi faccio a ridere come dall'altra parte c'era un po' di non so però se posso dire è quello che penso sì non credo perché cioè e non ho detto nemmeno e l'hai detto tutto infatti mi fa incazzare questa cosa perché lui ogni tanto faceva avevamo detto che avremmo fatto insieme da qui però perché così va bene Mario arrivo Mario infame con i sensi di colpa no a me funziona di brutto raga non so che dire ma funziona veramente tanto infatti sta cosa mi fa incazzare perché se io lo sapevo che non dovevo andare perché poi vado raga ero morta di recuperare il video intero quindi vi rifaccio vedere la storia non vi faccio vedere grazie mille grazie mille grazie mille Sers per il per il 5 sa pregata è arrivo un attimo ragazzi scusate problemi tecnici aspetta 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 che qua rischio di fare un bordello aspetta 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 che rischiavo di far vedere una cosa la Sega Gaming fatta vedere manco finita ma no no la Sega Gaming vabbè ma quando c'era quell'altra lì no ma volevo far vedere quella lì non c'era niente di spoiler quella finita non l'avete ancora mai visto perché non l'abbiamo ancora mai giocato quindi vabbè quindi non avete indovinato niente oltre a questo quando ci ha salutato da Mario con gli occhi ok vai Rice sarà contentissimo l'avrei speso no e che da me dopo un mese di pausa ti ritroviamo che assomiglia a Mario sono le droghe di Mario vabbè basta pace infatti stai che mi sono resa conto che ok che è successo non sono più come prima devo assolutamente cambiare qualcosa qua da qua non va bene così non va assolutamente bene perché manco a dire che mi vero cioè manco mi verrebbe a dire che sono ingrassata 10 chili no non so che cazzo è successo la faccia è diversa e basta ma perché c'è una scoreggia le 50 sub ma perché pensi ma ha funzionato subito guarda 5 sub e e e guardo uno yaoi vai 5 sub è vero questo ok che buon odore che cos'è sono io non è vero no è vero ok questo sì è vero gli ho fatto vedere niente ora le regalo io perché voglio vedere non gli ho fatto vedere assolutamente niente di tutti i pornazzi che c'ho è vero è vero cioè pensavo di andare a vivere in quella casa di Matteo ma che cazzo dite ma siete fuori ma che cazzo raga ma manco ma manco ma manco non la vedete ma se voi siete fuori raga no no ma siete fuori no 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 raga no no piuttosto mangiare una pizza no no